C'è posta per te, ospite Big e Nuovo Postino, Exwed. Tutto pronto per la nuova stagione del People Show del sabato sera di Canale 5, altro colpaccio della conduttrice Pavese. Tutto pronto per la nuova stagione di C'è posta per te. Sabato 7 gennaio 2023. Data di inizio del People Show ultimo nato da Maria De Filippi, è ormai alle porte. E, a proposito delle puntate inedite che allieteranno il pubblico di Canale 5. Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha sganciato una news alquanto allettante circa uno dei super ospiti che si vedranno a breve nel programma. Di chi si tratta? Di una star hollywoodiano di origini sudafricane, vale a dire la statuaria Carly Zeteren. Attrice classe 1975. Dunque la moglie di Maurizio Costanzo, per l'ennesima volta. Daca vreau cu totul altceva, inchide ochii si poti imagina ca lumea e a ta si in plus. Si poti sa sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava. Cand e sus, cand e sus, cand e sus, cand e sus pot eu sa sar. Acum ca nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot sa ma sus tot mai sus. Us, mai sus, tot mai, tot.